Un investimento di 256 mila euro all'abbattimento di 42 alberi che ora finisce nell'occhio del ciclone. Via Le Grassi cambierà forma con un progetto di riqualificazione urbana finanziato grazie ad economie di bilancio derivanti dai fondi Cipe. Partiti da qualche giorno i lavori su una delle arterie principali della città di Lecce, tra via San Cesario e via dell'Infeo, in uno degli ingressi del capoluogo di provincia. Si tratta di un intervento finalizzato ad una maggiore sicurezza di chi da percorre in auto, in moto e dei pedoni, per la sicurezza dei quali rifaremo tutti i marciapiedi che appaiono notevolmente compromessi. L'aveva dichiarato il vice sindaco degli Noci. Quella di Via Le Grassi, per via del progetto di ribaltamento della sezione ferroviaria e del parco delle cave di prossima apertura, continua il vice sindaco, rappresenta un'area fondamentale della città, che a breve si trasformerà in una delle principali aree di accesso a Lecce e che dunque, anche per questa ragione, dobbiamo rendere decorosa e sicura. Eppure, adesso, l'abbattimento dei 42 alberi, rei di aver danneggiato i marciapiedi e il manto stradale rendendolo sconnesso e meno sicuro, rischia di creare un caso, nonostante sia prevista la sostituzione degli arbusti. Grazie. 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 Grazie.